benvenuti in questo quarto video dobbiamo finire di aprire il box adrenalin intanto vi posso dire che ho messo in ordine le altre e si capisce adesso com'è l'ordine di tutto ora prima ci sono gli i flyer e sono ordinati non per roster leggende niente sono ordinate per tipologia i flyer mic drop lo vedete anche dal colore il powerhouse e i technician che sono i tecnici e infine i campioni che sono le card un po più diciamo di preso del set non ci sono inserti particolari questo queste card sono il massimo che si può trovare se ne trova mediamente una pacchetto a volte due ci sono card interessanti come alcune rookie o come cm punk che è la prima card o ad esempio i rookie come dicevo prima cmp anche la prima card panini ma adesso andiamo avanti allora ci sono 150 card totali mi pare di intuire quindi in un box non si completa perché sono già uscite delle doppie quindi numericamente non si completa forse sono stato sfortunato io forse proprio così ma diciamo in generale che le card non sono tantissime sono 150 rispetto alle collezioni tops che eravamo abituati con 500 card circa tra le 300 le 500 contando anche gli inserti qui si fa prima a completare la collezioni direi ma vediamo subito allora finvalor campione di coppia uh asca campione nxt qui abbiamo ad esempio due carte champion poi abbiamo kevin nash rick steiner lash legend che non è più rookie le rookie sono già uscite in altri set e dirti dominic misterio ecco questa qui di dirti dominic misterio penso sia la prima card che in cui lo vedo nominato così ma vediamo se continua la serie di campioni buono niente questa è doppia tripla mai perso il conto avva figlia di the rock poi abbiamo brookie jansen jd mcdonald brutus creed e kevin owens bel bel malloppo di atleti di o provenienti da nxt andiamo avanti terzo pacchettino undertaker ecco se collezionate card scambiamole perché abbiamo un sacco doppi andrew chase che a me piace tantissimo le storyline sulle chase university mi prendono molto nxt anzi sono quello che apprezzo di più ludwig kaiser ivar henry senoffe e julius creed allora una riflessione visto che le card comunque sono in un numero esiguo visto che ci sono leggende e intravi in penso 125 card circa tra tutte ci sono molti pochi nomi perché 125 nomi tra leggende e tra roster e sono pochi quindi qualcuno è stato fuori anche più di qualcuno mi viene da dire fin balor champion non mi ricordo quale ma uno di questi due fin balor già avevo ultimate warrior brown breaker rachel rodriguez bobby lashley e drew mcintyre i nomi di punta ci sono tutti però anche le rookie non so con che criterio magari ci sono dei nomi piuttosto che altri è comunque un set divertente colorate belle immagini belle e bello che spustare grandissimo eddie guerrero è arrivata la stile del draft questa è sicuramente la card migliore pulata oggi grandissimo qui cos'è immagine proveniente da no way out 2004 direi quando aveva appena vinto il titolo molto bene molto bene molto bene poi angelo dawkins montes ford c'è proprio tutto il tag team william regal la night e jimmy uso qui stanno uscendo meno leggende e sono contento di ciò come per tutti i video dell'adrenaline ho deciso di dare un minutaggio limitato quindi per oggi mi limito a qualche conclusione finale e poi da appuntamento all'ultimo quello che sarà l'ultimo video con gli ultimi i pacchettini che dire non sono certo card immancabili nelle collezioni di tutte però proprio perché il prezzo è basso e proprio perché comunque la qualità delle immagini non è brutta nonostante la qualità della card non sia il massimo ma per questi prodotti di fasce di prezzo passa è normale io mi sento di consigliarle e sono anche divertenti colorate a me piacciono poi è possibile anche giocarsi ma questo lo dico per i bambini mi piace a me che ci siano i numeri sopra detta schietta poi qui sono poco invasivi c'è una colonnina non dà particolari problemi e quindi le immagini carine a me la pari non mi dà una lira ma io se vi devo dare la mia il giudizio è tutto sommato positivo niente di che non si pula niente da nessun box al massimo vi è una carta champion che su ebay hanno presti i folli al momento ma si abbasseranno però per divertirvi a sbustare qualcosa vanno bene io come voto starei su un 6 e mezzo pienamente sufficiente ma niente di più non è certo un prodotto immancabile nelle collezioni di tutti appuntamento quindi al prossimo e ultimo video